Buonasera a tutti, siamo qui riuniti alla diciottesima lezione della scuola del sabato 2 novembre e con me c'è la sorella Stefani che mi aiuterà nel commento e nella condivisione dei versetti di questa scuola. Lascio la parola a Stefani che ci guida in una preghiera. Buon padre celeste che sei nei cieli, nuovamente ti ringraziamo per la possibilità che ci doni in questo momento di potere il Signore parlare di te e condividere la tua santa parola. Ti chiedo che ci guidi tramite il tuo santo spirito e possa tu Signore ogni giorno lavarci e purificarci di ogni nostro peccato in mancanza. Nel nome santo e benedetto di Gesù. Amen. Amen. Bene, la scuola di oggi ha come titolo Crescendo nella conoscenza. Leggiamo velocemente la nota introduttiva che dice Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. L'unico modo per rimanere fedeli nelle nostre convinzioni è progredire ogni giorno nell'esperienza religiosa. La fede crescerà se supererà i dubbi e gli ostacoli che si presenteranno ogni volta. La santificazione è autentica quando si consolida costantemente. Se crescerete nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo, approfitterete di ogni opportunità per comprendere sempre meglio la vita e il carattere di Cristo. Bene, lasciamo commento di questa bellissima nota. Andiamo subito a iniziare la nostra scuola così approfondiremo man mano i vari punti. Ti pongo quindi la prima domanda che dice quale triplice connessione dell'amore divino presentò Gesù ai Suoi discepoli? Sì, qui leggendo questo versetto dice E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, perciò Gesù già da qui ci dà questo indizio di quello che Lui ha fatto quando è venuto su questo mondo e inizia il suo ministero. Fa conoscere alle persone, fa conoscere al suo popolo che ricordiamo che in quell'epoca anche era sommerso anche nella idolatria e anche nella mancanza, come si dice, di fede verso di Dio. Però fa conoscere anche il nome di Dio ancora, anche i pagani. Fa conoscere questo nome agli altri popoli, però non soltanto Gesù lo fece conoscere. Vediamo che anche Giovanni ci riporta, dice io ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora, disse, affinché l'amore. Poi Gesù ci parla ancora di questo amore di Cristo, di Dio che ha fatto conoscere al mondo. E lo vediamo che il suo grande amore lui lo porta, come lo porta? Donandosi per la razza umana e del quale tu mi hai amato, disse, sia in loro e io in loro. Perciò vediamo che qui ci parla prima del nome di Dio che Gesù Cristo ha portato a conoscere a questo mondo. Ci parla dell'amore che Cristo stesso fa conoscere, l'amore di Dio che porta su questa terra, lo fa conoscere al mondo. E parla, ancora una volta, con quello stesso amore che tu mi hai amato, sia in loro e io in loro. Sì, grazie Stefani. Molto interessante questo passo che si pone alla fine della preghiera sacerdotale di Cristo Gesù. Ed è sinossi, se così possiamo dire, di tutto quello che è il suo percorso, che è il suo percorso su questa terra come uomo. È interessante che lui ponga l'accento sull'aver fatto conoscere il tuo nome, quasi come se il problema fosse della conoscenza del nome di Dio. È chiaro che il concetto di nome è legato non solamente al nome in sé, che gli ebrei avevano tra l'altro trascurato, avevano tra l'altro tralasciato, avevano addirittura dimenticato probabilmente, poiché la tradizione orale si era persa di quel nome, poiché quel nome era troppo grande, troppo puro, troppo santo per essere pronunciato. Ma il concetto non si ferma naturalmente solamente al nome, ma si ferma al carattere, alle caratteristiche, le peculiarità che fanno parte di questo grande Dio di cui Gesù è venuto come specchio a rifletterne i raggi. E solo lui può fare questa preghiera, è l'unico che effettivamente si può mettere nella condizione di pronunciare queste parole. Solamente Dio, l'immagine di Dio, Cristo stesso, poteva far conoscere chi Dio fosse. Qui ancora l'accento si ferma non soltanto su un'azione passata, raccontando quello che ha già fatto, o sul presente, lì dove sta cercando di dare le ultime direttive, gli ultimi segnali, gli ultimi avvertimenti e le ultime impostazioni ai suoi apostoli, ma si proietta anche nel futuro. Infatti dice lo farò conoscere ancora. L'opera di Cristo non è finita lì, non si è ancora adempiuto quello che si dovrà adempiere. L'opera di Cristo continua. L'opera di Cristo continua nel momento culminante della sua stessa vita che culmina in maniera eccentrica, potremmo dire, nella morte. L'acme della sua vita sta proprio nella morte e soprattutto nella resurrezione della morte, nonché nella Pentecoste. E quest'opera del far conoscere lì Dio vivente continua ancora oggi perché egli intercede per noi. La domanda ci parla di una triplice connessione dell'amore, triplice connessione in cui appunto possiamo includere lì Dio padre, possiamo includere Cristo e possiamo includere anche noi stessi grazie all'intervento di Cristo. Ma io più che di triplice connessione parli addirittura di quadruplice connessione, poiché il legante di tutto questo è appunto lo Spirito Santo, che qui non viene citato ma verrà citato comunque in Giovanni 17, in Giovanni 16, in Giovanni 14. E infatti il Signore in Isaia 27,5, se ricordo bene, dice uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me. Ecco, la forza di Dio come spesso in Zaccaria 4,6 rappresenta appunto lo Spirito Santo e questo è il legame, il quadruplice legame nel quale noi veniamo inclusi grazie al sacrificio di Cristo. Egli ci ha fatto conoscere di Dio vivente, egli è l'immagine di Dio vivente, egli è di Dio vivente. Chi ha conosciuto Cristo può dire di aver conosciuto Dio e chi ha conosciuto l'amore di Cristo, chi ha sperimentato l'amore di Cristo ha di conseguenza sperimentato quello che è l'amore di Dio stesso. Sì, Vito, mi è venuto in mente quello che dicevi del carattere, perché il nome di Dio, come hai detto tu, è legato al carattere. E leggevo i messaggi ai giovani a proposito del carattere di Cristo, che noi credenti dobbiamo riflettere questo carattere in qualsiasi ambito dove noi ad esempio possiamo esserci. In un mondo così dove oggi è molto difficile trovare persone che veramente possano avere compassione delle altre persone. Io personalmente li vedo queste cose, li vedo nel percorso che sto facendo. È difficilissimo trovare persone che mostrano compassione magari per una persona che non sta bene. Si tende sempre ad andare alla durezza o si tende sempre ad essere un po' superficiale. Ma quando tu leggi questo e ti viene in mente ciò che dicono gli iscritti non puoi fare altro che trattare di mostrare questo carattere di Cristo. Quando ti entra nella mente e ti entra nel cuore le azioni che fai devi dimostrare proprio il carattere di Cristo, così come dice il linguaggio, perché il mondo manca tanto la misericordia, manca tanto la benevolenza, manca tanto il rispetto. E Cristo aveva tutte queste caratteristiche che noi credenti dobbiamo anche acquisire giorno dopo giorno. Nella lettera agli Efesini Paolo ci ricorda un concetto molto importante, dice che affinché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché voi conosciate, siate radicati e fondati nell'amore e possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza. Cioè conoscere Cristo in ogni direzione, nelle quattro dimensioni di quello che è. E ci invita a conoscere Cristo, l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza. Questo potrebbe essere, potremmo utilizzarlo quasi come esegesi di questo stesso versetto. Conoscere Dio significa conoscere l'amore di Dio e conoscere quello che Cristo ha fatto per noi e comprenderlo in ogni sua direzione, in ogni sua dimensione. Bene, la seconda domanda ci dice che chi presentano al mondo i seguaci di Cristo? Bene, qui ci troviamo in una scena ben conosciuta, leggiamo un attimo il versetto per comprendere il tempo e il luogo in cui ci troviamo. Poiché passando il rassegno, osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, quello dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Paolo in questo preciso momento si trova ad Atene, si trova effettivamente sull'Aeropago di Atene, uno dei punti più alti, nella città vecchia della stessa Atene che è possibile ancora adesso visitare. Io ci sono stato, è stata un'esperienza veramente molto bella, c'è un'iscrizione in quale ci sta appunto incluso questo passo degli atti 17. Vorrei sottolineare prima di tutto un piccolo particolare della traduzione stessa, qui la scrittura dice al Dio sconosciuto, nella versione originale in quella greca l'articolo determinativo non c'è, i grecci hanno l'articolo determinativo, la traduzione letterale dovrebbe essere a un Dio sconosciuto. Gli Atenesi erano uomini tra virgolette di fede, anche se non uomini politeisti, inventavano nuovi dei in continuazione per accattivarsi i loro favori e non conoscendo quale fosse un altro Dio, quale potesse essere qualche altro Dio che loro fosse sconosciuto, hanno eretto questo altare. Bene, Paolo approfitta di questa occasione, approfitta di questa breccia per poter cercare di entrare nei loro cuori, per poter parlare con loro e presentare e annunziare chi è il Dio vivente, annunziare Cristo stesso. Cosa possiamo presentare noi al mondo se non Cristo? Cosa possiamo presentare al mondo se non ciò che abbiamo conosciuto? Possiamo noi fare come Gesù e parlare del Padre che non abbiamo mai visto? Certo, il Padre e il Cristo hanno un'immagine non simile ma identica, ma noi siamo testimoni di Cristo perché Cristo è l'unica persona di Dio che si è rivelata a noi, che si è fatta conoscere a noi e che rendendosi uomo ha reso il suo fare, il suo dire, il suo modo di agire intellegibile, comprensibile per ogni uomo. Quindi noi siamo testimoni di Cristo e non possiamo far altro che presentare Cristo al mondo. Il modo migliore che possiamo utilizzare per presentare Cristo al mondo è lo stesso che ha utilizzato Cristo per presentare il Padre. Cristo ha presentato il Padre comportandosi ed essendo come Lui, essendo perfetto e santo come Lui. Noi possiamo presentare Cristo agli uomini non soltanto leggendo un versetto, spiegando lo stesso, ma dobbiamo puntare ad arrivare a quell'obiettivo, a diventare come Cristo, a far conoscere davvero il Cristo che noi conosciamo, il Dio vivente, così com'è. Gandhi disse che non era mai diventato cristiano perché non ha mai avuto l'occasione di conoscere qualcuno che si comportasse come Gesù. Ecco, noi dobbiamo riuscire a rompere questo muro, noi dobbiamo riuscire ad arrivare ad essere come Lui, dobbiamo riuscire ad arrivare a dire, come diceva Paolo, mi sembra, in prima Corinzi 11.1, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Certo, bisogna realizzare però la prima parte, diventare degli esatti imitatori di Cristo, degli specchi che riflettono perfettamente e interamente la sua luce. Ti pongo la terza domanda che dice, cosa succede quando la conoscenza ricevuta da Dio non viene stimata? Bene, qui questo versetto biblico è molto interessante perché a volte non ci pensiamo, però la parola di Dio è tanto profonda, ci viene detto che l'uomo diventa insensato nei loro ragionamenti e il loro cuore di sé è senza intendimento. E ho tenebrato, dice, tenebrato vuol dire che navega nel buio, che è nel buio, che non conosce veramente ciò che poi le sta davanti. E poi dice, essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, cioè hanno conosciuto veramente Dio, hanno conosciuto la parola di Dio, il messaggio di Dio, ma l'hanno cambiata, disse in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore che è benedetto in eterno. Però la nota ci dà un altro importante messaggio per noi, perché dice, se trascurate o trattate con indifferenza gli avvertimenti dati da Dio, se accarezzate o escusate il peccato, voi decidete il vostro destino eterno e sarete pensati sulla bilancia e trovati mancanti. La grazia, la pace e il perdono vi saranno per sempre tolti. E' molto profondo, no? E' anche un avvertimento per noi, perché gli scritti ci mostrano che se noi veramente disprezziamo gli avvertimenti che Dio ci ha dato, nonostante che Dio è amore, Dio è un Dio paziente, un Dio generoso, un Dio di bontà, di fedeltà, però anche ha un limite, no? E quindi vediamo che qui ci fa, a noi, a noi che abbiamo conosciuto Dio, ci fa ogni giorno questa chiamata. Prima di tutto che dobbiamo sempre uscire da Babilonia e non conformarsi a questo mondo. Però vediamo che qua il Signore ci fa anche un avvertimento, perché l'Apocalisse ci disse anche, no? E ci parla di questo peso, ci parla di questo avvertimento nel quale se noi saremmo trovati mancanti davanti a Lui, vediamo che poi ci disse e la grazia, la pace e il perdono vi saranno per sempre tolti. Perciò è importante che noi, con tutta onestà davanti a Dio, possiamo ogni giorno considerare e possiamo riflettere sulla nostra condutta, sul nostro agire, sui nostri pensieri e anche sul nostro camminare costantemente in questa vita, in tutti gli ambiti, sia lavorativi, sia a livello anche nel studio, quando noi abbiamo la possibilità anche di stare in un circolo di amicizie, no? E quindi è importante che in tutti questi ambiti noi possiamo essere rappresentanti di Cristo e agire come Cristo ha agito. E spesso mi capita, dico, come agirebbe Gesù in questa situazione? E cosa direbbe Gesù in questo momento? Mi faccio queste domande. È importante che noi, ogni giorno, possiamo veramente attingere la grazia di Cristo e chiedere il suo aiuto e la sua guida, perché vediamo che qui ci parla della grazia, la pace. La pace è importante per il credente, il perdono anche. E quindi preghiamo al Signore che ci possa aiutare affinché ogni giorno noi non ci troviamo mancanti davanti a Lui. Qui il messaggio è rivolto in particolar modo a coloro i quali sanno, hanno avuto la possibilità di conoscere il Dio vivente. E questo ci dà non solo un senso di onore, un privilegio, ma ci dà anche una responsabilità verso noi stessi, verso i nostri cari, verso la nostra famiglia, verso il prossimo in generale. Gesù in Giovanni 9, alla fine del capitolo, arriva a dire ai farisei «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite «noi vediamo, il vostro peccato rimane». Ecco, questa è l'accusa che viene qui sintetizzata da Paolo nella Lettera ai Romani, rivolta a coloro i quali hanno avuto il modo di conoscere, di comprendere, di sperimentare Cristo e che ne hanno rinnegato la potenza. Coloro i quali hanno preferito la sapienza umana, la sapienza che era propria dei sofisti della cultura greca e che era stata così gradita ai romani appunto tale da importarla nei loro usi e costumi. Ecco, questi uomini sono diventati insensati perché hanno rigettato l'oro, il vero oro, per quello che Paolo chiamerà spazzatura. Nel libro di Giobbe, al capitolo 12, in una delle sue difese, che fa verso i suoi amici, lui fa una domanda semplice, a tratti banali ma molto interessanti, dice, ma interroga le bestie e ti istruiranno, gli uccelli e te lo diranno, parla la terra e essa ti istruirà e i pesci del male te lo racconteranno. Fra tutte queste creature, chi non sa che la mano dell'Eterno ha fatto questo? Cioè, chi può essere discolpato da questa grande accusa del non conoscere Dio? Nessuno potrà arrivare all'ultimo dei giorni dicendo, signore, io non ti ho conosciuto, tu non mi hai dato l'occasione di conoscerti. L'Eterno ha dato infinite occasioni a ognuno di noi di essere da Lui conosciuto. Solamente noi abbiamo chiuso gli occhi davanti a questo e davanti a delle rivelazioni straordinarie che un uomo giustamente fa fatica a comprendere e che solamente un uomo straordinario come Gesù poteva fare non si può tornare indietro, non si può rigettare questa grande luce, non si può arrivare a fare un errore così grande come quello che mi rassunto qui, di cambiare la verità in menzogna e di arrivare ad adorare la creatura al posto del creatore. I più grandi uomini, i più grandi saggi sono arrivati a farsi degli idoli, a farsi grandi sculture di immagini, di bestie, di rappresentazioni varie di altri uomini hanno scelto altri idoli. Il potere, la gloria umana, la ricchezza al posto della vera grandezza che Cristo ci ha regalato e che ha servito su un piatto d'argento a tutti quanti noi. La salvezza, l'ingresso al cielo, la redenzione, l'infinita saggezza, l'infinita sapienza, la gloria eterna è ciò che ci aspetta e ciò che il Signore ci vuole offrire. Non possiamo scambiare questo con nient'altro. Nulla è minimamente paragonabile all'altezza di questo. Bene, dice Qual è il fondamento della conoscenza autentica? Bene, e qui mi fermerei a leggere un attimo i versetti per cercare di comprendere qual è l'oggetto del nostro dire. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge ma essendo venuto il comandamento il peccato prese vita e Dio morì. Bene, penso che non basti il tempo che abbiamo a disposizione per spiegare interamente questo passo che è davvero straordinario. Dovremmo leggere tutti quanti il capitolo precedente tutto questo capitolo e probabilmente anche l'ottavo. Ma soffermiamoci appunto su questi passi. La domanda retorica che pone Paolo, la legge. La legge è il fondamento che Cristo ha scelto non solamente per noi ma per tutto quanto il creato. Addirittura il suo trono poggia sulla legge. La giustizia è la base del suo trono dirà il salmista nel Salmo 89 ed è la legge stessa. Ciò che regge tutta la creazione è la legge. Ma, dice Paolo, cosa stiamo dicendo? Che la legge è peccato. La legge può mai essere peccato. No, la legge non è peccato. La legge però è colei che dà forza al peccato. Perché è lei che ci fa distinguere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Se non esistesse la legge non esisterebbe la trasgressione della legge e quindi non esisterebbe il peccato stesso. Il fondamento della conoscenza è da porre nella legge ma non il fondamento della vita. Il fondamento della vita è Cristo, non è la legge. Il fondamento della conservazione della vita è la legge. Nel Deuteronomio 16.20 è scritto seguirà interamente la giustizia affinché tu viva e possieda il paese che l'eterno e il tuo Dio ti dà. Ecco, quando il Signore dà questo comando attraverso Mosè li ha già liberati dalla terra promessa. Quindi questo qui è un secondo step. Gli uomini sono già salvati e a questo punto viene proposto loro proposto, imposto anche e anche dettato come diktat quella di rispettare la legge per conservare questo status. Noi che oggi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita abbiamo ottenuto in dono la salvezza gratuitamente, senza fare assolutamente nulla. E si è benedetto il Signore per questo perché se qualcuno di noi avesse dovuto fare qualcosa per la salvezza non ci sarebbero stati salvati. Ecco, questo patto, questo ultimo patto questo settimo patto fatto da Dio e l'uomo ha come uomo Cristo Gesù che è anche Dio. Ed ecco perché questo patto è incendibile perché nessuna delle due parti può e vuole venire meno a questo allo stesso. Ecco perché la salvezza è garantita in questo ma la legge ci garantisce la conservazione perpetua della vita stessa e delle benedizioni di Dio. Se Adamo ed Eva, i nostri progenitori avessero mantenuto fede al patto che era stato loro proposto non avrebbero mai peccato quindi non avrebbero mai dovuto conoscere le conseguenze della trasgressione della legge le maledizioni che ci sono nella trasgressione della legge. Quindi sì, la legge non è il mezzo deputato per la nostra salvezza ed è spesso questo concetto nel capitolo successivo in Romani 8, versetti 2 e 3 ma al contempo è la garanzia della conservazione di questa salvezza che abbiamo gratuitamente l'odi a Dio ricevuto attraverso Cristo. Sì, stavi parlando della salvezza che è gratuita, no? e però questo concetto questo che la Bibbia ci mostra quando si rifarli almeno a me è capitato a qualcuno e tu gli dici guarda che la salvezza è gratuita non ci credono e non ci credono perché mi viene risposto niente è gratuito su questo mondo e spesso capita con le persone a cui sono a contatto o i malati e Dio mi dà la possibilità di parlare di questo e rimangono come come se tu le stai dicendo qualcosa che che per loro è impossibile di poter comprendere accettare perché loro spesso non ci credono e quindi però è noi che abbiamo conosciuto Dio e io personalmente lo ringrazio perché mi ha questa fede di credere che la salvezza non è per meretti ma per tramite veramente solo la grazia e un dono di Dio che ci ha donato e vedo che questa opera di credere questa grande obsecchio questo grande regalo che ci ha dato il Signore è soltanto tramite lo Spirito Santo l'unico che può fare questa opera nel nostro cuore e nella nostra mente lo Spirito Santo che ci convince che ci aiuta a comprendere queste grandi verità e oggi come oggi sta a noi poter veramente portare questo e mi ricordo che Paolo diceva io predico io predico al mondo in poche parole lui dice porto al Cristo che è morto che è risorto crocifisso a tante persone nel momento diciamo avendo già un'età molto avanzata non le puoi spiegare tante cose che vorresti ma quello che a me mi viene in mente è come portare ciò che Paolo portava a un Cristo che è stato morto ma risorto e portare il piano della salvezza a queste persone che avranno possibilità di vita magari alcuni pochi anni altri magari stanno per morire e ti rendi conto in quel momento che il punto cruciale della vita dell'uomo è portare la salvezza quella salvezza che è un dono all'uomo affinché l'uomo possa confessare i peccati pentirsi e poter ottenere quella salvezza in Cristo Ti pongo quindi la quinta domanda che dice cosa fa vergognare una persona? C'è un versetto biblico in Ecclesiaste 10 che mi è venuto in mente leggendo questa domanda e parla delle mosche quando entrano in questa fraganza in questo profumo ma si entrano non è più buono il suo odore quindi cosa fa vergognare una persona? Parlavi della legge parlavi che la legge è il carattere di Cristo che ci mostra il carattere di Cristo che ci porta a Cristo ma la legge stessa come dice anche Paolo ci fa comprendere il peccato perciò tutto ciò che viene praticato che va contro la legge fa vergognare il credente ma non solo ci sono persone che pur sapendo che non si deve rubare ad esempio rubano quindi anche questo tante volte l'essere umano quando viene preso nell'atto è una vergogna per loro stessi anche per la loro famiglia e quindi è tutto questo che noi abbiamo già conosciuto secondo i principi divini secondo la legge questo ci comporta tutti gli atti morali tutti anche la disuola parla la Bibbia parla anche dei figli che vi subidiscono i genitori anche questo è una vergogna stessa sia per diciamo un figlio che parliamo diciamo magari vediamo nella società oggi come purtroppo succedono tante cose no? tante cose cattive e vediamo anche anche dentro della chiesa no? quando noi figli non vediamo i nostri genitori è una vergogna una vergogna sia davanti a Dio davanti agli angeli e spesso anche un desonore per i genitori ma anche per i figli stessi quindi anche qua vediamo come Dio è proprio ci parla a 360 gradi e ci dà proprio dei parametri qui Paolo si riferisce a una problematica chiara tangibile se leggiamo i versetti precedenti la problematica che era scoppiata nella chiesa era uno scisma che c'era interno concetturale di conoscenze e di credo dovuto al fatto così come era presente anche tra gli ebrei che vi erano alcuni che portassero una dottrina contro la resurrezione alcuni uomini negavano la resurrezione dei morti il più grande scandalo dell'umanità quando noi portiamo il messaggio è la resurrezione ciò che non è accettabile agli occhi del mondo ciò che non è accettabile nella mente dei grandi uomi dei saggi dei sapienzi è la resurrezione come si fa a spiegare un fenomeno del genere come è possibile accettare un fenomeno soprannaturale gli stessi scienziati che accettano l'inizio della vita senza riuscirne a dare una spiegazione senza riuscire a ricrearla negano la possibilità della resurrezione come se colui il quale ha iniziato il tutto non avesse il potere di ricominciare da dove è cominciato da creare la vita da dove non c'è lo scisma nasce proprio da questo e questo è quello che fa riprovare Paolo e questo è quello che lo spinge a utilizzare una frase così forte così a tratti violenta vergognatevi vergognatevi dell'essere tornati indietro vergognatevi del non avere capito e non avere accettato vergognatevi e tornate ad essere retti non state reprobi ancora non vi mettete nella condizione di dover essere respinti da Dio l'oggetto principale e iniziale della predicazione apostolica non era la legge l'oggetto principale della predicazione apostolica era come deve essere anche la nostra la resurrezione di Cristo è lì che parte tutto se non c'è resurrezione che senso ha la nostra predicazione nel versetto 14 dello stesso capitolo lui afferma proprio questo se Cristo non è resuscitato dunque vana la predicazione ed è vana anche la nostra fede tutto punta lì e quello che vuole distruggere il nemico nella mente degli uomini è proprio questo l'accettazione di un evento così assurdo di questo concetto del miracolo di questo concetto della vita che viene dal nulla dal concetto della vita che dalla morte che può rigenerare la vita attraverso Cristo è un concetto che va al di là della nostra comprensione ma noi possiamo e dobbiamo accettarlo perché abbiamo visto e sentito e conosciuto Cristo Gesù perché abbiamo toccato con mano l'oggetto del suo dire e del suo parlare perché siamo testimoni anche se non non diretti di quella che è la resurrezione di Cristo e di quello che potrà fare anche nella nostra stessa vita questo è l'oggetto di scandalo della nostra predicazione questo è ciò sul quale sarebbero dovuti vergognare questi uomini si vergognino tutti coloro i quali si credono savi e rifiutano la conoscenza dell'eterno rifiutano il concetto di vita e rifiutano il concetto di resurrezione perché il perno di tutto il nostro credo è appunto questo sì mi viene in mente quel versetto che dice in italiano non mi ricordo però dice che chi mette su mano nell'arado che chi mette su mano nell'arado e mira tras non è degno di me sì l'arado non si volta indietro non è degno di me sì quindi anche qui vediamo quello mi è venuto ovviamente sentendo quello che stavi parlando proprio questo cosa fa vergognare una persona Luca 962 dovrebbe essere grazie vediamo che questo è proprio ciò che dobbiamo ogni giorno riflettere perché gli angeli ci osservano Dio ci osserva è una vergogna quando noi veramente ci riveliamo contro i principi di Dio e i principi di Dio io parlo alla gioventù ci proteggono tanto e ti rende felice perché vedi proprio che questi principi sono quelli che ti preservano dei tanti mali sappiamo che le prove ci saranno le sappiamo ma quando noi trattiamo di dire la parola di Dio è una gioia perché Dio è saggio e ha dato tanti consigli alla gioventù tanti consigli agli adulti a tutti a tutte l'età e perciò che Dio ci possa aiutare io spesso faccio la chiamata ai giovani che possiamo veramente avvicinarci a Cristo perché i principi i valori oggi nella società si stanno completamente letteralmente perdendo ma si è ringraziato Dio che ci ha dato questa conoscenza nella quale ci protegge di tanto e ci protegge anche del non dimenticarlo anche perché dice ricordate del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza come dicevi tu è il dimenticare Dio è quello che Dio rimproverava loro il dimenticarsi di Lui bene io ti rivolgo la sesta domanda disse cosa non si dovrebbe mai fare quello che non si dovrebbe mai fare da come espressi nei versetti è quello di tornare indietro quello di voltarsi indietro quello di guardare alle spalle di guardare quello che si è lasciato alle spalle la scrittura qui ci dice appunto di non girarci e non voltarci ai falsi dei ma si rivolge anche alle conoscenze precedenti alle quali rivolta anche a colori quali erano servi dell'eterno e si volgono indietro alle leggi cerimoniali leggi che sono state superate ma non perché non valgano più ma perché si sono adempiute perché hanno trovato il loro giusto finale la loro giusta meta nella vita di Cristo Gesù Cristo dice la scrittura dello stesso capitolo che è morto perché è un nato da donna soggettato sottoposto la legge e ha fatto in questa maniera perché riscattasse coloro che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione avendo ricevuto l'adozione noi non viviamo più sotto la legge al contrario viviamo sopra la legge ciò non significa che stiamo abolendo la legge assolutamente no significa che non viviamo per la legge ma viviamo perché la legge vive dentro di noi quindi noi dobbiamo come dire realizzare il piano straordinario della legge nella nostra vita ma lo possiamo fare solo dopo aver ricevuto Cristo non possiamo volgerci indietro non possiamo tornare certo ai riti e alle cerimonie del passato tutto questo si è adempiuto in Cristo ha avuto uno scopo in Cristo ha avuto un obiettivo in Cristo è riparte da Cristo il fine della legge è Cristo dirà Paolo in Romani 10 4 e si è perfettamente adempiuto in lui ecco noi che abbiamo ricevuto la grazia abbiamo questa possibilità questo privilegio di adempiere gli stessi obiettivi che Cristo ha adempiuto nella sua stessa esistenza come rispettando e praticando la legge e insegnando a fare lo stesso nonché ricevendone le benedizioni i benefici straordinari che Dio ha promesso a tutti quanti noi e che sono ben espressi in tutta la scrittura in particolar modo nel Deuteronomio 28-29 in parte anche del 30 qual è il desiderio più grande del cristiano bene disse Osea 6-3 conosciamo l'Eterno e sforziamoci di conoscerlo e sollevarsi è certo come l'aurora e gli verrà a noi come la pioggia come l'ultima e la prima pioggia alla terra diamo che qui il desiderio del credente del cristiano deve essere di conoscere Cristo però la scrittura ci dice e sforziamoci di conoscerlo no? e quindi anche qui è un incoraggiamento per noi perché tutti i giorni è tutti i giorni che noi cresciamo e poi dice il sole levarsi come l'aurora e gli verrà a noi come la pioggia perciò anche qui Dio viene a noi con delle benedizioni alla nostra vita disse come l'ultima e la prima pioggia alla terra un altro desiderio del cristiano è un giorno anche incontrare Cristo avere questa vita eterna di vederle faccia a faccia no? e lo studio ulteriore Vito ci disse l'amore di Cristo è progressivo con uno sforzo costante crescerete nella conoscenza di Dio essere puri santi e senza macchia costa qualcosa ma ricordate che colui che non offende con le parole è un uomo perfetto ecco questa lezione oltre a essere un ricordatorio che noi dobbiamo avere ogni giorno crescendo no? nella conoscenza di Cristo se noi leggiamo va proprio a colpire sempre il nostro uomo interiore che abbiamo e ci fa un paragone fra il carattere di Cristo e il carattere nostro che è difettuoso e qua ci disse perché dice che essere puri santi senza macchia costa qualcosa e sì perché noi abbiamo questo carattere difettuoso e spesso lottiamo contro i nostri desideri e quello che lo Spirito Santo ci ha insegnato ma ricordate che colui che non offende con parole è un uomo perfetto capace anche di tenere a freno tutto il corpo mettete la vostra mano nelle mani mettete la vostra mano nelle mani di Cristo dicendo guidami custodiscimi e benedicimi interessante l'invito che viene fatto da Osea quando appunto dice questa parola sforziamoci di conoscerlo ecco lo sforzo deve essere uno sforzo costante uno sforzo quotidiano deve essere uno sforzo personale noi spesso cerchiamo di ascoltare di sentire di imparare Dio attraverso la voce o l'esperienza di altri è un metodo iniziale interessante è sicuramente un metodo di supporto a coloro i quali devono essere iniziati alla conoscenza dell'Eterno ma non è quello che il Signore richiede da noi il Signore vuole un rapporto personale con noi Dio deve diventare il mio Dio in Geremia 31-34 il Signore descrive un momento storico straordinario in cui lui stesso dice non insegneranno più ciascuno al proprio vicino né ciascuno al proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande ecco questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere tutti dobbiamo conoscere l'Eterno tutti dobbiamo sforzarci di conoscere l'Eterno ma io più che sforzarci utilizzerei un altro termine nella nostra vita cioè quello di comprendere che il nostro è un privilegio e non un'imposizione divina noi abbiamo la possibilità di conoscere il re dei re abbiamo la possibilità di conoscere il padre dei ciri abbiamo la possibilità di comprendere l'origine e il fine della nostra esistenza tutto questo ci viene donato con Gesù infine viene detto nello stesso versetto egli verrà a noi come la pioggia come l'ultima e la prima pioggia della terra molti pensano sperano che arriverà questa pioggia e risolverà i problemi dell'umanità l'uomo finalmente riuscirà ad accogliere l'Eterno perché è in pace con lui e perché finalmente riesce a soddisfare i requisiti della legge non è quello che ci insegna la scrittura nel Deuteronomio al capitolo 11 versetti 13 e 14 la scrittura ci fa un altro invito ci invita ad ubbidire diligentemente i comandamenti ubbidite oggi i comandamenti che io vi prescrivo amandolo Eterno servendolo con tutto il vostro cuore e con la vostra mente e avverrò che io darò al vostro paese al suo tempo la pioggia la prima e l'ultima pioggia perché tu possa raccogliere il grano il tuo vino e il tuo olio quindi l'ubidienza ai comandamenti la disciplina che possiamo imparare su questa terra è ciò che ci preparerà alla ricezione di questo grande ultimo straordinario dono che è quello della pioggia dell'ultima stagione oggi abbiamo questa occasione quella di conoscere Dio oggi che siamo vivi oggi che viviamo in un periodo di grazia possiamo avere un rapporto unico con l'Eterno rispettare la sua legge creare questa questa sinergia e questa sintonia nella quale ci nutriamo di Dio nel quotidiano e alla fine potremo ricevere queste grandissime benedizioni che il Signore ha riservato per noi e che il Signore ce lo conceda in grazia preghiamo fare santo che se ne ci riesci anche qui in mezzo a noi ti ringrazio ancora una volta per queste perle straordinarie che ci dai ogni giorno per il pane della vita che ci hai spezzato e più in ogni altra cosa ti ringrazio per aver dato tuo figlio Gesù a morire per tutti quanti noi ti prego fa che queste verità possano imprimersi nel nostro cuore nella nostra mente nel nostro spirito fa che la resurrezione possa essere l'oggetto della nostra meditazione giorno e notte e fa che la tua legge possa entrare a far parte di noi e che la tua volontà diventi la nostra volontà fa che possiamo servirti nel modo più corretto affinché possiamo accedere alle tue benedizioni straordinarie che hai riservato all'umanità fin dalla fondazione del mondo ti prego per noi qui presenti ti prego per tutti coloro che sono collegati in questo momento donaci le tue benedizioni speciali supportaci tienici uniti che è il sacro vincolo dell'amore e abbi pietà delle nostre mancanze voglia tu cancellare il nostro peccato e darci il tuo santo spirito per non commetterlo più nel sacro nome di Cristo Gesù ti chiedo ogni cosa e tutto sia fatto secondo la tua volontà Amen Amen Io vi saluto ringrazio Stefani per essere stati con noi e buon sabato nella speranza che sia un sabato di gioia di letizia per tutti Buon sabato ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.